Musica Buonasera da Infostudio, martedì 5 novembre, Reggio Calabria, non solo essa ma soprattutto Reggio perché era la sua città, si stringe attorno alla famiglia di Antonino Candido, il vigile del fuoco di origine regina, di 32 anni, che è stato uno dei tre a perdere la vita la scorsa notte nel crollo di parte di una cascina in provincia di Alessandria, il comune di Quarniento. I tre vigili erano intervenuti circa un'ora prima perché c'era stata una prima esplosione con incendio e stavano spegnendo le fiamme quando si è verificata un'altra esplosione, un crollo. Poi sulla dinamica e sulle ipotesi investigative, torneremo fra un attimo, ma è questo soprattutto il momento del lutto e del cordoglio. Come detto Antonino Candido aveva 32 anni, era da poco al lavoro nel corpo nazionale e la destinazione di Alessandria gliela è stata assegnata di recente. Con lui hanno perso la vita Matteo Gastaldo di 46 anni e Marco Trisch di 38, che sono invece entrambi alessandrini. Nell'esplosione sono anche stati feriti altri due vigili del fuoco e un carabiniere per fortuna però in maniera lieve. Sul posto sono stati trovati, per quanto riguarda le indagini, degli inneschi che sarebbero stati collegati, e lo erano ancora in parte al momento di trovamento, ad una bombola inesplosa, dei fili elettrici ed un timer. Ci sono state più esplosioni intervallate, ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Ceri dopo il sopralluogo. Dagli elementi che abbiamo acquisito pensiamo sia un fatto doloso. Voglio sottolineare che si procede, l'ipotesi investigativa per cui si indaga per il momento contro i gnoti, è di omicidio plurimo doloso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude la pista di possibili dissidi tra il proprietario della cascina che era disabitata e il figlio, così come pure la pista legata al risarcimento dell'assicurazione. Il proprietario della struttura è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Sembra che per un periodo, senza successo però, avesse anche tentato di mettere in vendita la cascina. Sono in corso ancora gli accertamenti tecnici, cioè l'attività scientifica che è affidata ai carabinieri di Alessandria e soprattutto a quelli del RIS di Parma. Cordoglio ha espresso con un messaggio inviato al prefetto Mulas, capo dipartimento dei vigili del fuoco, il capo dello Stato Sergio Mattarella. In questa dolorosa circostanza ha scritto desidero esprimere a lei e al corpo la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività. Su Twitter il Presidente del Consiglio Conte ha scritto la morte dei tre vigili del fuoco a Dolora tutta l'Italia. Solidarietà e pieno sostegno agli eroi sempre in prima linea per garantire la nostra comunità. Le elezioni regionali in Calabria dunque adesso sono molto più vicine, cioè le vediamo più nitidamente perché la data del 26 gennaio per la prima volta è stata fatta ieri dal Presidente della Regione Oliverio. Certo, ancora non è ufficiale, certo sono possibili altre e diverse soluzioni, ma diciamo pure che ora manca solo il crisma dell'ufficialità per stabilire che il 26 gennaio è un election day vero e proprio perché come sappiamo si vota in Emilia Romagna, quella regione attenzionata con grande perizia da parte di tutti, anche perché i destini delle elezioni in Emilia potrebbero segnare quelli del governo come sappiamo. Oliverio ha intanto fatto la conta e mostrato i muscoli nella Leopoldina, così l'abbiamo ribattezzata, che però è la prova provata ed ufficiale del fatto che la sinistra andrà ad elezioni divisa e che questo potrebbe costarle una sonora batosta. Le elezioni regionali in Calabria si terranno domenica 26 gennaio 2020. Mancano il sigillo del concerto tra Regione e Corti d'Appello e poi il decreto apposito, ma almeno una certezza adesso c'è. La lunga attesa per sapere quando i calabresi sarebbero stati chiamati alle urne è finita e il 26 gennaio sarà un mezzo election day, anche se l'esito del voto nella nostra regione sarà mediaticamente schiacciato dall'attesa delle regionali in Emilia Romagna, che dopo quello che è avvenuto due domeniche fa in Umbria ormai stanno agli equilibri del nostro paese come i risultati dell'Ohio alle presidenziali degli Stati Uniti. Comunque, dicevamo, almeno ora si conosce la data del voto. L'ha fatta il presidente uscente, Mario Oliverio, ieri alla mezzia terme a margine dell'iniziativa promossa dalla coalizione di centrosinistra che sostiene la sua ricandidatura alla presidenza della regione. Proporrò la data del 26 gennaio perché ritengo che è necessario dare il giusto tempo. Se ci sono proposte che sono meno divisive della mia, che sono più attrattive della mia, si mettano in campo. Non si può discutere sul nulla, non si può discutere solo sul veto a Oliverio. Oliverio ha anche fatto sfoggio di cavalleria, dicendo di non aver avuto l'intenzione di utilizzare la scelta della data del voto a suo vantaggio. E chissà se la tentazione davvero mai l'ha sfiorato, ovviamente per mettere in crisi, più di quanto già non lo sia, il Partito Democratico, che resta comunque il suo partito, ed anche i fragili rapporti tra PD e 5 Stelle, dopo che la prova di alleanza nel voto Umbro è clamorosamente fallita. Ieri comunque la Leopoldina di Oliverio ha proprio dato l'impressione di una prova di forza e di nervi a dispetto del Nazareno, di Zingaretti, del commissario Graziano. Luogo scelto, un vecchio capannone in disuso dell'ex Ciro, modalità organizzativa, un cantiere con sette tavoli tematici perché nessuno parla di programmi, ergo solo qui e ora si affrontano davvero i problemi, mentre tutto attorno è un ginepraio di veti, una suburra di contestazioni, resistenze e bocciature. Il centrosinistra calabrese è qui, dice con un ghigno il presidente, addolorato dall'assenza del commissario, pur invitato, sottolinea. Oliverio parla di futuro, del compimento di un ciclo che grazie alla prossima legislatura dovrà servire a uscire da una crisi storica. Ma egli è il primo a sapere che la scissione, perché di questo si tratta, non farà altro che avvantaggiare un centrodestra non meno confuso, per ora privo dell'appoggio della Lega, che le europee di fine maggio hanno dimostrato essere dirimente anche in Calabria. In termini di consenso, infatti, la leopoldina calabrese ha anche più spessore di quella fiorentina. Italia Viva viaggia attorno al 5%, la lista a trazione san Giovannese, coi suoi 250 e più sindaci, la maggioranza dei circoli più di appoggio, eccetera, eccetera, quanto peserà? Sono 70 le misure di custodia cautelare che sono state eseguite da carabinieri e guardie di finanza tra le province di Torino, Reggio Calabria, Milano e Catania oggi in un'operazione contro l'Andrangheta, che è stata coordinata dalla Procura antimafia di Torino, misure cautelari per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga, poi ci sono altri reati, ma i principali sono questi. Sei persone sono anche accusate di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, sequestrati beni, conti correnti e quote, il cui valore ancora non è stato compiutamente quantificato. L'indagine è data da alcuni filoni investigativi maturati dopo l'inchiesta Minotauro, che è quella che ha svelato l'attività dell'Andrangheta in provincia di Torino. Questi ultimi sviluppi in particolare sono legati alle dichiarazioni di Domenico Agresta, 31 anni, figlio di uno dei boss della famiglia di Platì, che negli anni 70 si è trasferita proprio in Piemonte, che è in carcere per omicidio dal 2016, ha poi deciso di collaborare con la giustizia svelando intrecce e interessi nei territori di Volpiano, Chivasso e Brandizzo. Tra i provvedimenti notificati oggi, uno riguarda l'avvocato Pierfranco Bertolino, che è un noto penalista che già era stato coinvolto nella vicenda di presunti favori in procure, che avrebbe confidato notizie riservate a un cliente, poi svelato elementi segreti di indagine a un altro esponente criminale. L'operazione arriva a tre anni esatti dal pentimento di Agresta, che come ho detto è in carcere per omicidio dal 2016 e sancisce inequivocabilmente la leadership della Andrina di Platì in Piemonte e nel nord-ovest. Gli Agresta arrivarono a Volpiano, ribattezzata poi la piccola Platì è un comune di 15 mila abitanti della cintura metropolitana torinese, negli anni 70 hanno conquistato velocemente una posizione importantissima nel panorama criminale, grazie anche ai rapporti con la cosca a Marando, poi si sono allargati fino a Corsico e Buccinasco, in provincia di Milano, dove, comuni nei quali sappiamo essere forte la presenza appunto di Andrine Calabresi. C'è stato un nuovo sequestro di droga, di cocaina, 61 kg purissimo, oltretutto nel porto di Gioia Tauro. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno trovato la droga in un container all'interno di due borsoni, a loro volta nascosti in un carico di carne congelata, container che proveniva dal Brasile ed era diretto nel sud-est asiatico. Una volta la destinazione è tagliata, probabilmente fino a 4 volte, la droga, la cocaina avrebbe fruttato 12 milioni di Euro. Ci è voluto così tanto per far partire il sistema Park & Ride a Crotone, il noleggio di bici con la possibilità di ottenerlo anche in abbonamento e dopo 6 mesi questa esperienza purtroppo sembra essere destinata al fallimento più totale. Giuseppe Laratta Da lunedì sera il Park & Ride di Crotone ha ufficialmente chiuso i battenti. Si tratta del servizio di bike sharing comunale gestito dall'Associazione Ciclofficina, iniziato ufficialmente a giugno dello scorso anno, dopo un lungo periodo di vuoto, nonostante fossero già pronti i mezzi e la sede. La collaborazione tra comune ed associazione è partita nel 2017 con la stipula della Convenzione. Ma purtroppo, per una serie di problemi burocratici che hanno portato solo a una perdita di tempo, Ciclofficina è riuscita solo nel gennaio 2018 ad entrare nella sede di via Miscello d'Aripe, non prima di risolvere altri problemi, come il cambio delle serrature, poiché si erano perse le chiavi della sede, e l'allaccio alla rete elettrica idrica. Il Park & Ride chiude perché non c'è stato il rinnovo della Convenzione di gestione, nonostante fossero più di 200 i soci che utilizzano le biciclette, 48 mezzi per l'esattezza, e nonostante un servizio eccellente. Lo scorso aprile, ha fatto sapere Ciclofficina in un lungo post apparso sulla pagina Facebook che annunciava la chiusura, l'Associazione ha iniziato a contattare l'amministrazione comunale in vista della fine della Convenzione e nonostante le assicurazioni durante quest'arco temporale in merito alla continuazione del rapporto, si è arrivati ad oggi. Noi abbiamo combattuto per un bel po' di tempo per cercare di farlo diventare un qualcosa di più questo Park & Ride, infatti da luglio già quando era scaduta comunque la Convenzione abbiamo protocollato, comunque abbiamo cercato di comunicare il più possibile col Comune affinché potevamo migliorare questo servizio. Sfortunatamente adesso siamo chiusi e quindi molte persone che comunque erano abbonate, che soffrivano di questo servizio, ogni giorno adesso si trovano a a non dover usare più la bici a Crotone. Stiamo spostando tutti i mezzi, parte dei mobili, ma parte delle biciclette del Comune rimarranno qua, verranno comunque coperte con un tellone per assicurarle comunque al riparo il più possibile e basta questo. Cosa succederà da domani? Da domani saremo chiusi o comunque non forniremo più il servizio comunale del bike sharing, proprio perché questa Convenzione non è stata rinnovata. Il servizio di bike sharing non solo proseguirà, ma è nostra intenzione fare in modo che da sperimentale diventi un servizio stabile e duraturo. Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, aggiungendo che già da tempo la Giunta ha dato specifiche direttive agli uffici di procedere in questo senso. Per giovedì sera intanto Ciclofficina sta organizzando un evento a supporto della continuazione del servizio. Vorremmo fare una raccolta firme per comunicare, comunque per spornare il Comune a far continuare il park and ride che sia affidato comunque a Ciclofficina o che sia affidato a qualcun'altra, a qualche altra associazione. L'importante è che continui il servizio di bike sharing a Crotone, molto utile per la nostra città e per i nostri cittadini. Quindi noi che faremo? La sera alla Chase Point, cucineremo delle penne all'arrabbiata perché siamo tra virgolette arrabbiati e quindi offriremo questo piccolo piatto a tutti coloro che verranno a sostenerci e a darci una mano con questa iniziativa. E' andata davvero bene un migrante che era sbarcato questa mattina lungo le coste della Locride su un veliero insieme a un'altra cinquantina di persone. Insieme a altri due uomini stava percorrendo la linea ferrata, non si è accorto del sopraggiungere di un treno che l'ha investito. Per fortuna ha riportato solo danni lievi, gli altri due sono rimasti illesi. Il traffico ferroviario è stato interrotto temporaneamente per i soccorsi. Il veliero, con il quale i migranti erano arrivati sulle coste calabrese, è stato abbandonato sul posto. 62.972 e questo al 31 ottobre scorso, 5 giorni fa, il numero delle domande accolte in Calabria per il reddito di cittadinanza. In tutto ne sono state presentate quasi 100.097.936 e ripeto 62.000 sono state quelle accolte. Per invece la pensione di cittadinanza 5.777 istanze hanno ricevuto parere favorevole. Questo è uno dei tanti segnali, numeri, dati ai quali ci rifacciamo anche per spiegare la crisi della nostra regione. Ieri abbiamo conosciuto il rapporto Svimez, il tasso migratorio della Calabria è il più alto fra quello delle 20 regioni italiane, ma c'è anche chi resiliente e resistente continua a rimanere in Calabria, si ostina a provarci e spesso anche, questo è il caso delle storie di cui stiamo, ovvero sta per parlarvi, riescono a vincere la loro sfida. Sta per parlarvi Franco Laratta, l'ex parlamentare, giornalista, scrittore e amico. Aggiungo che ha scritto un libro che è stato presentato anche a Crotone. Il rapporto Svimez presentato ieri ha evidenziato un dato allarmante. Negli ultimi 20 anni circa hanno abbandonato il Sud oltre 2 milioni di residenti. La metà sono giovani, di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati. Il 16% circa si sono trasferiti all'estero e di questi oltre 850 mila non tornano più nel mezzogiorno. Sono numeri allarmanti che dichiarano l'esistenza di un'emorragia, ma al contempo esistono giovani che resistono e intendono continuare a vivere e investire proprio al Sud. Il giornalista e già deputato Franco Laratta ha raccolto in un libro 20 storie di chi, coraggiosamente, continua a scegliere la Calabria. Il volume, dal titolo Vantativinne, è stato presentato al Liceo Classico Pitagora di Crotone in un incontro, coordinato dalla professoressa Anna Melillo, alla presenza non solo degli studenti, ma anche della presidente del MyClub Velico Crotone, Paola Proto, e di tre ragazzi calabresi le cui storie sono state raccontate dalla ratta. L'archeoenologo Gabriele Baffaro, il musicista Domenico Scarcello e la chef stellata Caterina Ceraudo. Sono 20 storie di ragazzi di questa terra che hanno deciso di non partire. Come sappiamo c'è un grande esodo da questa terra. Pure questi ragazzi con mille sacrifici, spesso contro tutto, contro le burocrazie, contro le istituzioni che non aiutano, uno dopo l'altro. Sono storie attualissime di questi mesi, di questi ultimissimi anni. Sono musicisti, sono poeti, sono contadini, sono artisti, sono ragazzi che sono rimasti e contenaci, sono riusciti a realizzare un sogno, oppure un ob, ma anche un progetto. Noi le raccontiamo anche nelle varie istituzioni scolastiche che stanno credendo in queste, le raccontiamo in questo libro per dire alla Calabria c'è una esigenza di rimanere qui, ma c'è anche la passione di rimanere calabresi, di respirare l'aria calabrese e quindi di lavorare in Calabria. C'è bisogno di dare segnali positivi. Allora questi ragazzi che vengono con noi alle scuole, a turno, vengono tutti, vengono a raccontare come hanno fatto a reagire, come hanno fatto a resistere. Vi posso raccontare che sono storie belle, vere, non romanzate, raccontate semplicemente, ma che sono le storie di una Calabria che ce l'ha fatta. Poi la speranza forte è quella che noi tutti insieme ce la possiamo fare. Libre anche questo, vantati vinne, cioè siamo orgogliosi, dobbiamo essere orgogliosi di questa terra e lavorare qui tutti insieme. Hanno tagliato senza esserne autorizzati 80 piante di pino laricio e in questa maniera hanno danneggiato il paesaggio, ma poi hanno indebolito un bosco perché ne hanno diminuito la densità. Per questo a Spezzano della Sila un uomo titolare di una ditta boschiva e due suoi operai sono stati denunciati dai carabinieri forestali. Il taglio in un bosco privato in località Vaccarizzo. La legna ricavata, circa 375 tagli, era stata sistemata in un'area di circa un ettaro area, oltretutto, che ricade nel sito Rete Natura 2000 che è una zona a protezione speciale denominata Sila Grande. E adesso è il momento di Oscelgo Calabria. Grazie a tutti. La castanicoltura ha da sempre rappresentato per Fagnano Castella un'attività produttiva molto importante, ma da qualche anno, precisamente dal 2013-2014, la produzione è calata notevolmente in relazione ad una patologia che ha afflitto le piantagioni di castagno. Proprio in occasione di questa emergenza, una vera e propria emergenza, i produttori di Fagnano Castello si sono costituiti in un'associazione. Siamo con Mario Cozza, che è il vicepresidente, che ci racconta questa iniziativa. Noi come associazione siamo costituiti appunto nel 2014, proprio per cercare di fronteggiare questa emergenza che in realtà stava attaccando i nostri castagneti, con questo insetto che in realtà è arrivato da noi dal Piemonte e ha proprio compromesso la produzione, facendola ridurre anche dell'80-90%. Poi il problema principale era non solo che era crollata la produzione, quando metteva in grisa proprio la sopravvivenza dei castagneti, che sono tutti castagneti secolari, perché in realtà i nostri castagneti si sono diffusi in mare già dalla fine del 1800, quindi i castagneti nostri hanno un'età media di circa 250 anni. Era correlato proprio con quello che era l'allevamento del suino. Originariamente noi eravamo tutti pieni di castagno, castagneti da frutto. Poi c'è stata in realtà una flessione nel dopoguerra e molti castagneti da frutto, specialmente quelli dei grossi proprietari terrieri, sono stati tagliati e convertiti in gedo. Però nonostante tutte queste alterne vicende, ancora a Fagnano possiamo contare su più di 20.000 piante di castagno, cioè 20.000 piante di castagno che in realtà costituiscono un'economia notevole per il nostro territorio. Tant'è vero che pur attestandoci a una produzione del 10-15% della produzione, la produzione delle castagne da frutto, anche se non articolata perché in realtà la si vende quasi tutta all'ingrosso, crea un giro d'affari per i costo di ricoltore di intorno a un milione e mezzo di euro. Ora quest'anno in realtà è stata un'annata tra le peggiori in assoluto che c'è stata perché in realtà oltre al problema cinipede c'è stata una primavera piuttosto umida e fredda che ha impedito proprio la formazione del fiore e la legagione del frutto. Tant'è vero che quest'anno siamo riusciti ad avere soltanto un po' di produzione della varietà più precoce che è la nostra rigiola, però è venuta a mancare la produzione dell'anzerta che è la varietà in realtà un po' più tardiva che è sui mercati di tutta la Calabria, in modo particolare delle Puglie, è particolarmente apprezzato. L'edizione della Telegiornale per questa sera termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro la buona serata.